ciao benvenuti nel video dell'estrazione ci sono stati 13 commenti quindi io ho preparato 13 numerini adesso li metteremo nel barattolo e poi facciamo l'estrazione prendiamo 11 ogni numerino è abbinato un nome delle persone che hanno commentato adesso facciamo appunto l'estrazione 6 7 contiamo siamo sicuri di metterli tutti 9 10 11 12 e 13 li abbiamo messi tutti non guardo ok questo è possiamo barattolo il numero è il 3 il 3 corrisponde a arianna l'ho scritto qui è vedete 3 arianna allora arianna hai vinto la midori sotto trovi la mia email mandami il tuo indirizzo tramite email e io in settimana vado a spedirlo penso lunedì o martedì mattina vado a spedire il pacchetto e fammi sapere quando ti arriva se ti è piaciuta magari scrivimi anche un commento qui sotto il video e niente vi ringrazio ancora per aver partecipato ci vediamo al prossimo video io vi saluto ciao ciao ciao